Ciao a tutte, siamo qui alla serata hardcore di Sherwood e mi trovo con gli Slow Chamber. Innanzitutto, come state? Bene, grazie. Sudati. Vuol dire che avete fatto il vostro, quindi. Allora, vi abbiamo intervistato a ottobre al Metal Punk Fest per il vostro show di debutto in realtà. Otto mesi dopo ci troviamo qui e nel frattempo è uscito un vostro album di Lay of Suffering a marzo. Bravo, hai studiato. Ho studiato. Appunto, come dicevo, già a ottobre avevate otto pezzi pronti e eravate però indecisi se uscire, diciamo, i singoli separati o se fare appunto un album. E alla fine avete deciso di farne un album. Cosa vi ha fatto optare per questa full release? Il fatto che i pezzi, alcuni, risalgono a cinque anni fa. Sì. Quindi era una cosa che doveva uscire così e doveva uscire ora. Semplicemente. Ha senso. Avete, diciamo, raccolto quello che già avevate fatto. Siamo partiti comunque singolo per singolo per, sai, rompere il ghiaccio a un nuovo progetto. Comunque, insomma, parti da zero, devi un po'... Aggiungerei anche il fatto che quando tu impacchetti un pochino la cosa dai anche un'identità un pochino più raccolta per la cosa piuttosto che i cingoli come prodotti sciolti ma hai un'identità, insomma, abbastanza precisa. E era una cosa importante per noi, insomma, questa cosa qua. Assolutamente. Sì, comunque i pezzi da quando abbiamo iniziato a lavorarci, appunto, svariati anni fa, sono sempre stati concepiti come parte di un disco. Cioè, comunque, come parte di un prodotto unico che parte da A e ti porta a B. E quindi era, appunto, la cosa più logica fargli uscire così. E adesso stiamo lavorando su un po' di roba nuova, sperando di, insomma, accelerare i tempi, diciamo, no? Cioè, questo EP che è uscito è stato un bel parto, eh. Comunque, davvero, sono pezzi... Lui me li ha fatti... La band è nata con lui che mi fa sentire delle demo in un van nel 2018. Io gli ho detto, caldo, io voglio fare sta roba, facciamolo. Poi, sai, insomma, ci vuole un po', c'è stato il covid di mezzo, le cose, i tempi si sono... Un batterista non si trovava, insomma, ci sono state un po' di dinamiche che tutti i progetti... Beh, tutti, quasi tutti i progetti in partenza... Hola! ...affrontano e... E niente, quindi c'è voluto un po', adesso... Adesso siete carichi. Speriamo che ci voglia un po' meno, ecco. Esatto, adesso avete la band al completo, avete capito come fare. Avete sicuramente trovato un'alchimia tra di voi e quindi ci aspettiamo... Anzi, già avete anticipato che qualcosa è nel laboratorio. Comunque, appunto, il vostro album in otto brani, appunto, come dicevo prima, mescola metal e hardcore, rivelando come anche siate cresciuti con la scuola di Knocked, Luz e Implor, senza dimenticare la stella polare costituita dai Converge. E dei Pantera, bro. Ecco, infatti... Non dimenticarti mai dei Pantera nella vita, per favore. Siete d'accordo con questo inquadramento sonoro o vi sentite di aggiungere altro? Appunto, i Pantera, direi. No, di base è così. Cioè, alla fine... Poi io... Sì, sì, no, effettivamente hai nominato... Cioè, queste robe non le hai lette da nessuna parte perché non abbiamo mai parlato delle band a cui ci aspiriamo, però effettivamente hai letto bene le influenze, insomma. Se hai sentito gli Implor, effettivamente sì. E vabbè, c'è da dire anche gli End, in parte, anche gli End, non so se... Però comunque anche loro parecchio... Bene, bene. Mi fa piacere, beccati, quindi... Ma soprattutto i Pantera. Ma soprattutto di me, non... Non dimenticarti di Pantera. Non dimentichiamo di Pantera. Invece, guardando alle copertine del vostro album, ma anche dei vostri singoli, invece, ho notato che sono molto curate, appunto. Che hanno sicuramente una impronta, direi, fumettistica. In particolare, l'album mi ha ricordato... Diciamo... Cioè, l'album è anche il singolo, Social Decoy, e il disegnatore Gigi Cavenago, di Landog. E, onestamente, i primi due singoli mi hanno riportato molto l'atmosfera souls-like, da Elden Ring, Dark Souls e compagnia bella. E quindi, volevo chiedervi, al di là di questa attenzione e qualità, a mio avviso, chi è che si occupa di voi, o, insomma, che collabora con voi di questi progetti grafici? Io. No, allora. Diciamo che tutto quello che è uscito è comunque frutto di un ragionamento e di un percorso, anche, che abbiamo fatto dove comunque cercavamo di capire come presentare questo prodotto, no? Nel senso, comunque, è una cosa pesa e dici, come vi presento? Con un'immagine forte, d'impatto, una roba un po' più splatter, una roba un po' più punk, perché, comunque, se ti leggi i testi, cioè, c'è un sacco, anche, di analisi sociale, di contemporaneità su quello che diciamo, no? Quindi, io, poi nello specifico, che, appunto, ho seguito un po' questa cosa qui, volevo... Cioè, c'è stato un momento in cui volevo anche dare un taglio molto punk alla cosa, ho detto, facciamo una classica copertina in bianco e nero, siamo un po' fotocopiata, un collage, robe, due, due, tre robe, pese, di impatto, e... bella, ma stereotipata a volte, dipende come lo fai, dipende cosa ci... cosa ci vedi, e, niente, e poi, alla fine, abbiamo optato per qualcos'altro, insomma, abbiamo scelto questa linea un po' pittorica, un po' astratta, abbiamo cercato di dare un senso anche a quello che seguiva pezzo dopo pezzo, tipo, no? Certo. Boh. Certo. Sì, cioè, nel senso, vorrei dirti, abbiamo cercato di trovare qualcosa di iconico, che poi, nel senso, non è nulla, in realtà, di stravolgente, però comunque qualcosa di semplice, astratto, che però fosse di impatto. Assolutamente di impatto, e poi, secondo me, questa cosa converge con, appunto, l'idea di un percorso che dai singoli porta al disco, è tutto molto coerente, secondo me, e si nota che è tutto collegato, quindi assolutamente sì. Sì, anche perché poi, tra l'altro, entri in un vortice dove, non so, magari tra un singolo e l'altro passano due mesi, e tu in un momento dici, io voglio proporre questa cosa qui, e due mesi dopo hai già cambiato idea, dici, no, io voglio proporre in una maniera total... cioè, è deleterio delle volte, no? Perché ti perdi dietro, tu hai più input e non capisci più come vuoi, presentare questa cosa, perché poi da una parte dici, boh, voglio sperimentare, voglio fare questa cosa qui, e poi dici, no, aspetta, boh, vai, 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 apprezzo particolarmente il fatto che hai dato, come definizione, connotazione, il discorso dell'estetica source-like, qualcuno decide di aver giocato, perché vai tipo Dark Souls, Elden Ring, devi parlare con lui, cioè, guardi me, ma io non... sentivo la puzza, sentivo la puzza, sentivo la puzza, e... con DLC in uscita, tra l'altro, ma, in chiusura, se non erro, appunto, il vostro disco, di Delay of Suffering, è un disco completamente autoprodotto, e... appunto, non ci sono etichette discografiche, le release, come mi avete confermato, dalle grafiche, ai singoli, e le gestite in completa autonomia, e quindi, vi volevo chiedere, se ci fosse un motivo particolare, dietro a questa decisione, di essere assolutamente, slegati, diciamo, da qualsiasi ente o persona, che sia, o etichetta, e autoprodurvi completamente. Beh, ti do un po' la stessa risposta di prima, nel senso che doveva uscire così, e doveva uscire ora. quindi, dal momento che comunque, noi arriviamo da progetti attivi, comunque, da tanti anni, cioè, arriviamo tutti da altre band, attive comunque da tanti anni, e bene o male, abbiamo detto, ok, sappiamo come stamparci i dischi, sappiamo dove stamparci il merch, eccetera, questa cosa, è già stata in stand by, per troppo tempo, sai, cercare un'etichetta, imbastire dei discorsi, capire come lo vuoi fare, porta via del tempo, e delle energie, che in quel momento, volevamo dedicare ad altro, e quindi abbiamo detto, vabbè, facciamocelo. e ce lo seguiamo noi, alla fine comunque, ci siamo seguiti, cioè, anche per quello che facciamo fuori, da questa, che è l'attività della band, comunque abbiamo tutti, delle skill, chi da una parte, chi dall'altra, per poterci fare questa cosa da soli, abbiamo detto, ok, questa esce così, dopo è chiaro che, adesso magari il prossimo disco, comunque il prossimo materiale, ora che la band comunque, ha messo la testa fuori, comunque inizia a girare il nome, puoi iniziare a fare un discorso, tipo, ok, registro delle demo, le mando a qualcuno, vediamo se salta fuori qualcosa, però, è più, è più, più sulla long run, non lo so, io straparlo, ecco, poco fiduciosi loro, giusto il tuo ottimismo, vi ringrazio, di essere stati qui, Sherwood vi ho accolto, veramente, con gioia, e sicuramente, noi abbiamo suonato con gioia, esatto, soprattutto io, perché poi i ragazzi, nessuno di loro è di Padova, però io sono a casa, qua, allora, spettacolo, per me vale doppio, adottato, adottato, adottato da poco, e allora, sicuramente dico, ci rivedremo, molto presto, qui a Sherwood, assolutamente, assolutamente, vi ringrazio ancora, ciao, adottato, ciao,